Oggi con il mio collega Massimo ci troviamo vicino la Via Roma per un appartamento interessantissimo. Dove siamo esattamente? Via Principe di Granatelli, qua a due passi da Piazza Ignazio Florio. Piazza Ignazio Florio. Un primo piano così luminoso non l'ho mai visto in tutta la mia carriera. Assolutamente, sembra un attimo. Questo salone è luminosissimo e ampio. Sono 32 metri quadri con affaccio su Via Principe di Granatelli. Comodissima cucina con un tavolo dove può accogliere tranquillamente quattro persone, bagno, annesso e uscire nel terrazzo. La camera da letto matrimoniale ha delle dimensioni standard. E in più, c'è l'uscita pure qua sul terrazzo, un terrazzino meraviglioso. Grazie. Massimo, a questo punto dobbiamo organizzare qualcosa di veramente particolare per questa casa. E certo. Facciamolo Open House. E facciamolo Open House. Facciamolo Open House.